ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi un nuovo video questa è una mia cliente e ho fatto la ricostruzione con tip e stavolta ha cambiato forma del solito lo fa sempre mandorla e stavolta voluto una quadrata adesso sto applicando questo colore bianco il pure white di passione unghie e qui ho dato tre passate perché era veramente pare tanto coprente lì del video ma invece no e ho fatto una terza passata per essere più sicura anche se a seconda dava bene però sapete voglio colore proprio coprenti coprenti e anche gli clienti piacciono e poi ho usato sopra il bianco e sono andata a mettere l'argento glitter su tutte le unghie uno strato sottile per dargli quel punto luce poi infine lucido ultra gloss sempre passione unghie e olio cuticole se pure quello sempre passione unghie e niente spero che il video vi piaccia se sarà così metterete pollice in su se volete sotto i video mi commentate mi fate sapere se questo tipo di nail art insomma vi è piaciuta un po strana da solito che molto carina è venuta molto bene e anche semplice ovviamente tanto è solo un'applicazione del gel colorato sopra un altro colore niente di che però come effetto molto carino e niente vi lascio vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao